amici eccoci qui buon pomeriggio dopo tanto ma tanto tempo mi sono visto una bella puntata di Imbach Wrestling ma a tal proposito in questo video parleremo dell'anteprima della puntata odierna di NXT nel prossimo parleremo della card di Victory Road evento speciale davvero abbastanza speciale dalla Imbach Wrestling in previsione poi di Bound for Glory che se non mi sbaglio è uno tra i pay per view più importanti della federazione anche se chi segue per il seguamento la DNA o Imbach come vogliamo chiamarlo sai che da un po' di anni il numero dei pay per view si è ridotto bene ma veniamo appunto al vero punto di incontro tra di noi in questo video parlando dell'attesa puntata di NXT di questa notte nella notte tra oggi e domani come vedete dall'immagine di copertina abbiamo Finn Balor, Kyle O'Reilly e Shawn Michaels Shawn Michaels dirigerà il face to face tra appunto il campione di NXT Finn Balor e lo sfidante numero uno Kyle O'Reilly inoltre Damian Praiest e Yoshirai se la vedranno contro Johnny Gargano e Candy Schlaree e Shorty Blackheart contro Dakota Kai quindi insomma ce n'è di carne a fuoco poi come sapete notizie di questi giorni di queste settimane alla Full Sail ci sono stati altri casi di Covid o comunque giustamente la WWE cerca di tenere in maniera preventiva un numero di atleti ridotto rispetto al consueto bene per l'anteprima di NXT è tutto preparati perché ci sarà vi delizzerò con la carta di Victory Road e poi ovviamente per Bound for Glory arriverà anche il video tra perché Bound for Glory il 24 ottobre insomma piano piano in avvicinamento faremo dei video bene quindi buona visione per questo video noi ci vediamo per il prossimo e speriamo che NXT non ci delude quest'oggi ciao